Tutto pronto per la sfida contro Pedara, cosa temi di questa sfida? Che avversario affronterete? Pedara secondo me è un'ottima squadra, non sono frasi fatte, l'abbiamo studiata abbastanza e abbiamo visto che comunque ha messo in difficoltà anche la capolista Santa Teresa quindi ha dei punti di forza importanti, gente che ha fatto bene in altri campionati, sarà una partita molto combattuta che andrà affrontata col picchio giusto dall'inizio La SEAP come arriva a questa sfida? Abbastanza bene, ci stiamo allenando bene, sono contento, adesso rifiniremo le ultime cose per quanto riguarda la fase tattica e niente, dobbiamo solo dare il massimo Qual è il tuo appello al pubblico per la sfida di sabato? Di venire numerosi perché comunque sta crescendo sempre di più il pubblico presente alle partite e ci dà una grossa mano nei momenti difficili, il loro apporto si sente e ci aiuta a fare meglio Arriva la sfida contro Pedara, Ambra Composto, che gara ti aspetti? È un derby siciliano, molto sentito? Sì, sicuramente non sarà facile perché comunque conosco un paio delle giocatrici che sono a Pedara e sono conosciute assolutamente per la loro grinta e la voglia di vincere e di fare sempre bene e poi sappiamo benissimo che contro di noi tutti quanti danno il massimo perché siamo la squadra magari da battere e quindi ce la mettono sempre tutta Praticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Ma, allora, a parte queste due ragazze non conosco tanto la squadra contro cui giochiamo Stiamo facendo comunque video, stiamo appunto studiando un po' direzioni e gioco loro Onestamente non saprei, ripeto, di sicuro sarà una partita secondo me dal punto di vista di grinta e in campo molto viva La Sia Paragona arriva a questa sfida con il morale alto dopo le belle e convincenti vittorie in campionato Sì, grazie a Dio, a parte la sconfitta a Santa Teresa, poi le altre partite sono andate abbastanza bene Sicuramente sappiamo che quello che dobbiamo fare noi è sempre dare il massimo e cercare di vincere tutto a punteggio pieno L'obiettivo è sempre quello, per cercare di risalire la classifica il più possibile attendendo magari un passo falso di Santa Teresa Noi, come sempre, ce la mettiamo tutta e abbiamo l'obiettivo davanti a noi Serve anche l'apporto dei tifosi, qual è il tuo appello al pubblico? Di venire numerosi e di sostenerci in campo facendo anche un po' di confusione e di tifo come si deve Vi aspettiamo ovviamente tutti quanti sabato